Questa nostra funzione di piattaforma logistica nel Mediterraneo, al servizio anche dell'Europa, ha bisogno di un collegamento stabile appunto col continente. Senza il ponte sullo stretto questo collegamento non ci sarà. Ci abbiamo creduto, il governo e anche noi ci abbiamo investito, sarebbe paradossale che anche stavolta, dopo tanti passi avanti, tutto si fermi per tornare indietro. Sarebbe uno sperpero assurdo di risorse che sono state investite e di danni che verrebbero pagati. E quindi, siccome si tratta di una infrastruttura che abbiamo riconquistato dopo i dubbi dei mesi scorsi emersi da una relazione del Presidente Barroso, avendola riconquistata sarebbe ora grave che per le titubanze, le incertezze o addirittura l'ostilità di un pezzo di Parlamento o del governo si tornasse indietro, ci si fermasse per tornare indietro. Quindi è importante il ponte, ma anche un collegamento ferroviario degno di questo nome con la parte più a sud dell'Europa, che poi sono i porti di Augusto e di Pozzallo. Il ruolo dei governi è stato un ruolo sbagliato che i paesi e le società civili hanno sicuramente stigmatizzato. Si trattava di rapporti con dittatori, magari per assicurare lo sfruttamento delle risorse di quei paesi. Oggi, dopo le rivoluzioni che hanno attraversato gran parte di questi paesi, c'è da ricostruire un rapporto di fiducia e di collaborazione con le tante istituzioni locali che già collaborano. E questo forum, il forum del Mediterraneo, che è il primo che si svolge a Catania, che vede i rappresentanti dei soggetti locali, delle istituzioni culturali, delle associazioni di categoria, di ben 21 paesi che si affacciano sul Mediterraneo, vuole essere il punto di sintesi, la rete delle tante reti che sono costruite, che non vanno disperse, che devono costituire l'approccio giusto per i nuovi rapporti con i paesi che stanno affermando leadership democratiche e che certamente vogliono lasciarsi per sempre al passato le esperienze degli anni scorsi. Non soltanto il forum, oltre che la posizione geografica, ma il premio a Lidrissi, l'osservatorio del Mediterraneo a cui abbiamo dato vita, il dialogo tra le religioni monoteiste, sono tutte iniziative di questi ultimi mesi. E poi ci sono le mille iniziative che non devono sfuggirci dai rapporti bilaterali tra università, tra facoltà, tra gruppi imprenditoriali, tra istituzioni locali, tra città, tra regioni, che appunto questo forum intende mettere insieme e valorizzare. I rapporti fra l'Italia e la Libia e lo sviluppo e il rafforzamento e l'ulteriore sviluppo di questi rapporti sono una priorità altissima per il ministero che io dirigo e posso dire anche per il governo al quale ho l'onore di appartenere. C'è l'intenzione di stabilire un contatto politico al più alto livello quanto prima. Non posso ancora fare anticipazioni precise né sul formato né sulla data, ma è certo che l'obiettivo è quello di avviare un percorso di riattivazione completa dell'accordo di amicizia che costituisce il contesto quadro delle relazioni fra i due paesi e di conseguenza dare un impulso forte a quello che è l'intescambio bilaterale. Credo che la Libia, come osservava poco fa il Presidente Lombardo, nella conversazione che abbiamo avuto, è un paese dove esiste un'esigenza evidente di ricostruzione, di diffusione del benessere, di rafforzamento dei consumi e di rafforzamento infrastrutturale. Quindi è il contesto ideale vista la prossimità geografica, ma anche la contiguità di settori economici. È un contesto ideale per la presenza delle imprese siciliane. Guarderei soprattutto al settore delle piccole e medie imprese. Non direi che l'Italia pone ostacoli sul piano della concessione di visti. Vi sono dei regolamenti Schengen che siamo tenuti a rispettare, vi sono altre formule di viste di lavoro che consentono grandi aperture e possibilità al lavoro dall'estero nel nostro paese e viceversa noi intendiamo favorire gli scambi di personale, di manodopera, di lavoratori. Quindi questo è un impegno tradizionale del nostro paese, non è certo libero ad essere modificato. La cooperazione interuniversitaria è di grande interesse, appartiene anche a una delle componenti fondamentali del programma di politica estera che ho presentato in Parlamento qualche giorno fa. Dobbiamo valutare in che modo questa formula si può inserire nelle modalità di cooperazione universitaria e sicuramente ci lavoreremo. Ho voluto dare proprio con la mia presenza una sensazione concreta di quanto sono impegnato nello sviluppare la dimensione mediterranea della nostra politica estera.